Un altro breve intervento del dottor Domenico Centrone, arti laboratori dal basso, al quale chiedo veramente di essere brevissimo perché siamo fuori tempo. Buongiorno a tutti, sarò bravissimo anche perché è stata ampiamente descritta l'iniziativa dalla collega, io sono per l'appunto Domenico Centrone, uno dei referenti dell'iniziativa laboratori dal basso, mi preme solo sottolineare l'approccio dell'iniziativa che parla dal basso, è un'iniziativa volta a supportare le giovani realtà imprenditoriali, quindi associazioni e microimprese presenti sulla regione attraverso l'apprendimento, quindi è tutto finalizzato all'apprendimento, il sostegno in questa direzione non è un sostegno di tipo finanziario-economico, quindi dal basso sono i ragazzi proponenti a decidere chi invitare, cosa apprendere e come apprenderlo, quindi le modalità formative. Le tre iniziative sono state ben descritte, due delle iniziative laboratori e testimonianze sono al momento concluse, fino al 30 novembre ci saranno circa 40 laboratori e testimonianze su vari argomenti, inclusa anche l'inclusione sociale, quindi vi invito a tenere costantemente monitorati i nostri canali di riferimento, quali il sito internet laboratoriedalbasso.it, la nostra pagina facebook, il nostro blog laboratori dal basso, invece per quanto riguarda l'iniziativa mentoring è un'iniziativa ancora aperta, quindi qualora siete interessati potete contattarci. Grazie, buon convegno a tutti e grazie di tutto. Un ultimo ringraziamento a Galatina 2000, con la quale l'istituto ha un'intensa collaborazione ormai da molti anni. Galatina 2000 sta trasmettendo in streaming questo evento e mi dicono che ci sono 60 utenti collegati che grazie alle potenzialità della tecnologia stanno seguendo anche a distanza questo evento. Grazie ai ragazzi di Galatina 2000. Io passo la parola al dottor Paolo Venturi, direttore Icon, che farà un intervento sul valore aggiunto dell'economia sociale. Grazie, grazie dell'invito e soprattutto anche per l'occasione di conoscere una delle numerose realtà che in questo momento storico in particolare dal basso, quindi in questo senso stanno emergendo. Il mio intervento appunto mi è stato chiesto di parlare un pochettino, di fare una cornice del tema dell'economia sociale, anche perché queste attività, quello che state presentando oggi, è all'interno di un contesto che è quello dell'economia sociale e quindi vorrei nel tempo che mi è stato dato provare a raccontare non soltanto l'economia sociale dal nostro punto di vista. Noi siamo Icon, è un centro studi che nasce dal movimento cooperativo nazionale e dall'Università di Bologna, che ormai da 12 anni ha scommesso su questo approccio. Ha scommesso su questo approccio scommettendo che il sociale non era un effetto dell'attività economica, ma scommettendo che il sociale era un ingrediente fondamentale per l'economia e per lo sviluppo e dopo proverò a raccontarlo. Quindi proverei, ho anche delle slide da supporto che scorrerò molto velocemente, a descrivere in un percorso e in una sequenza i punti che a mio avviso sono i più significativi per dar conto di un valore aggiunto dell'economia sociale. Aggiunto non inteso nella logica appena incrementale, che si aggiunge agli altri valori, ma un valore aggiunto inteso come un valore peculiare, distintivo, cioè un valore che solo l'economia sociale riesce a portare. Quindi non si tratta appena di redistribuire la torta. Il tema dell'economia sociale è un tema che centra ed è utile per la politica e per l'economia perché ha l'obiettivo di allargare la torta. Non solo di allargare la torta, ma rendendola più accessibile a maggior numero di persone. Quindi favorendo tutto un tema che è il tema fondamentale oggi dell'economia, cioè il tema dell'equità. Parto da un presupposto che ormai è evidente, ne ha parlato anche il sindaco nell'apertura, il tema della crisi. Il tema della crisi oggi è un tema che di fatto, recuperiamo l'etimologia della parola, crisi non è una cosa di per sé negativa. Etimologicamente crisi significa passaggio, transizione da uno stadio ad un altro. Ovviamente il passaggio può essere vissuto in un modo o in un altro. L'avversione al cambiamento fa vivere il passaggio in una maniera molto più difficile rispetto a chi ha un'ipotesi positiva rispetto alle cose. Quindi all'interno di un percorso di crisi, all'interno di un momento di crisi, è chiaro che la dimensione, per esempio, imprenditoriale, cioè qualcuno che scommette sul futuro, ha un approccio completamente diverso. Chi ha un approccio assistenziale, all'interno di un momento storico di crisi, avrà un altro tipo di effetti. Quindi la crisi, secondo me, va incrociata con anche l'approccio che noi riusciamo ad avere in questo periodo. Tenete conto di questo, che oggi l'incapacità di innovare spesso nasce dall'incapacità ad assumere un diverso approccio dei problemi. Cioè se noi guardiamo in un momento in cui è cambiato tutto, le cose nello stesso modo, saremo incapaci di innovare. Quindi assumere un'ipotesi diversa è fondamentale. Ecco perché io vi voglio in qualche modo raccontare sinteticamente il tema del valore aggiunto dell'economia sociale. Perché assumere questo approccio cambia i fattori in gioco e cambiare i fattori in gioco significa che cambia e dà opzioni in termini di risposta maggiori rispetto prima. La prima evidenza da cui voglio partire, ormai è chiaro, la produzione di ricchezza non passa più solo dalla dimensione economica per come l'abbiamo conosciuta. Cioè la ricchezza non è più effetto dell'aumento banalmente del PIL. Per aumentare il benessere nelle nostre società non basta correlarlo a un aumento di produttività. E dopo vi farò vedere anche un grafico che esemplifica questa cosa. D'altro canto se questo modello in qualche modo dentro questo ambito c'è un fallimento fra virgolette del mercato, dall'altra parte non possiamo più pensare, anche questo è un elemento strutturale, che la socialità potrà essere garantita unicamente da un'attività di ridistribuzione della pubblica amministrazione. Quindi facciamo due passi indietro, non è più pensabile immaginare un modello di sviluppo economico e sociale che si basa su due tempi, io produco e poi ridistribuisco. Svolgo un'azione di produzione di valore e poi di ridistribuzione in qualche modo per rispondere a una esigenza di equità. Questo non funziona, non funziona più. Un po' perché i dati strutturali ci dicono che la produzione di ricchezza viviamo in cinque anni di recessione e un po' perché sappiamo che la finanza pubblica è strutturalmente destinata i prossimi almeno vent'anni a subire una forte razionalizzazione. Quindi se questo è il contesto, cosa c'entra l'economia sociale? In che senso l'economia sociale può dare un contributo a questa ipotesi? Quindi se è fallito un modello, se questo modello non è più efficace, lo vediamo quotidianamente nella vita di tutti i giorni, perché è aumentata l'istanza e il bisogno di protezione sociale di ogni famiglia ed è aumentata conseguentemente la spesa out of pocket, quello che ci tiriamo fuori dalle nostre tasche per i bisogni sociali che prima erano in qualche modo garantiti più o meno da una copertura pubblica. Bene, se il tema è questo, il tema è come legare l'economico col sociale. Cioè non è più pensabile pensare a una dimensione di sviluppo che passa prima dall'economico e poi ridistribuisce. Bisogna legare l'economico col sociale. Ecco perché si parla di economia sociale. Ecco perché noi parliamo sempre di più di impresa sociale. Ecco perché noi parliamo sempre di più di innovazione sociale. È chiaro che non possiamo pensare che aggiungendo la parola sociale a tutte queste cose abbia risolto il problema. Bisogna trovare delle chiavi di interpretazione reali, di operatività, per rendere veramente attiva questo matrimonio, cioè l'economico e il sociale. Cioè la vera rivoluzione dei prossimi anni è come produrre valore economico col sociale e come produrre valore sociale con l'economico. L'inserimento lavorativo è esemplificativo di questo. Si parte da un'istanza di recupero di soggetti svantaggiati, nasce un'impresa a tutto tondo e quell'impresa risolve un problema sociale produce valore economico. Non dimentichiamo che queste sono persone che ricevono uno stipendio, producono imponibile, reddito IRPEV e tolgono una serie di soggetti svantaggiati dal carico dei servizi pubblici. Noi abbiamo fatto delle ricerche su questo. È stimato in circa 7.000 euro il risparmio per la pubblica amministrazione per ogni soggetto preso in carico da una cooperativa di inserimento lavorativo. Poi questo è un valore medio. I psichiatrici in qualche modo il valore è ancora più alto, gravi. Quindi il tema è legare il sociale con l'economico. Allora per fare questo passaggio qui adesso vi faccio vedere un po' alcuni punti. Io sono un economista di formazione quindi ovviamente il mio imprinting sarà molto di natura economica. vi faccio vedere a livello macro e anche un po' a livello micro quali sono i punti a mio avviso che dovrebbero in qualche modo nutrire un diverso modo di leggere la realtà, l'economia e di fare policy. Le politiche pubbliche oggi non possono più fermarsi al livello di spesa pubblica per fare azione pubblica. Devono andare oltre e dilatarsi. Come fanno ad andare oltre? L'alleanza con i soggetti dell'economia sociale è il modo che le istituzioni pubbliche intese come statali hanno per dilatare la loro azione e in qualche modo aumentare lo spettro di risposte. Tenete conto che la cooperazione sociale nel suo articolo 1 ha una parolina che è un'impresa che nasce per l'interesse della comunità. Quindi c'è un'affinità elettiva nel DNA dell'economia sociale, in particolare della cooperazione sociale, rispetto alla dimensione pubblica. Sono imprese che hanno una funzione pubblica. Non è uno simoro. Riconoscere questo già di per sé permetterebbe un forte ampliamento dell'azione pubblica rispetto ai nuovi bisogni. Il primo nodo da sfatare rispetto a questo approccio, l'ho già anticipato, l'economia sociale cos'è che fa? Rompe una lettura dell'economia, che si chiama economia politica per come ce l'hanno insegnata all'università, che vede appunto lo sviluppo basato su due soggetti, Stato e mercato. Il mercato produce beni privati e lo Stato produce beni pubblici. Abbiamo visto che questa dicotomia, in questa dicotomia in qualche modo non riusciamo più ad andare oltre, tant'è che la crisi entropica paga questo scotto. Perché se lo sviluppo e la socialità sono giocate solo dentro a queste due dimensioni, è chiaro che la torta è finita, perché lo Stato si sta restringendo e il mercato si sta restringendo. Allora qual è l'approccio primo di impostazione? È che esiste, bisogna costruire un nuovo modello di sviluppo, noi io chiamiamo economia civile, in cui la dimensione dello Stato, la dimensione del mercato e la dimensione del civile in qualche modo dialogano pariteticamente. Perché una delle cose che sconta di più l'economia sociale, la cooperazione sociale, l'impresa sociale, il sociale in generale, è questo approccio residuale. Cioè facciamo funzionare lo Stato, facciamo funzionare il mercato, poi rispetto ai fallimenti di uno e dell'altro interviene il sociale. Invece il tema qual è? Il tema è recuperare la dimensione sociale per le sue finalità, sia nella dimensione di azione pubblica, sia all'interno dello spazio economico. E quindi ovviamente giocarlo non solo nelle dimensioni appena di inclusione sociale, per carità va benissimo, è fondamentale, è la pietra miliare. Però il sociale può avere una pluralità di espressività e mi sembra che anche con le iniziative che ho un po' visto anche a distanza, Bolenti Spiriti ed altro, il tema dell'imprenditorialità sia molto incrociata col tema del sociale. Anche perché il sociale è un input straordinario per attivare l'imprenditorialità. Dopo parlerò anche dell'innovazione sociale. Però diciamo che è l'input che poi attraverso un processo di innovazione sociale crea le precondizioni per trasformarsi in una start up e poi eventualmente in impresa. Quindi il primo approccio che voglio dire è questo, il cambio di modello è fondamentale. Cioè l'economia sociale ha un valore aggiunto perché ci permette di ragionare in maniera diversa. E ragionare in maniera diversa cambia un pochettino anche la tassonomia delle parole. Beni pubblici e utilità sociale quindi non sono più prerogativa solo della pubblica amministrazione, sono una prerogativa diffusa, condivisa. Le politiche pubbliche non sono soltanto quelle che fa la regione e il comune, sono le politiche che il pubblico, inteso come pubblica amministrazione, condivide con i soggetti che hanno una finalità pubblica. Quando vai in Inghilterra e parli di statale e non statale ti ridono in faccia perché dicono, beh, public, loro hanno un'unica parola. E dicono public, nel senso coloro i quali in qualche modo gestiscono una finalità a favore della comunità, hanno creato anche una normativa che ha generato una pluralità di soggetti e di imprese sociali, community interest company, cioè imprese che si prendono cura della comunità e che hanno una finalità sociale, non redistribuiscono ovviamente gli utili e tutto quello che incassano lo mettono a patrimonio per la comunità. E sviluppo economico, anche il tema dello sviluppo economico ovviamente non è un tema che si può giocare soltanto lavorando sugli incentivi alle piccole e medie imprese fondamentali, piuttosto che sviluppare la manifattura fondamentale, ma deve sempre di più aprirsi anche a una pluralità di altri soggetti. Pluralità di altri soggetti che dopo vi farò vedere, lo sapete già o l'avete già visto, che già anche l'Istat ha censito come soggetti che hanno ormai una dimensione produttiva economica non più non valorizzabile. Quindi dentro questa prospettiva ovviamente, se questa è una prospettiva, cambia anche la ricetta per lo sviluppo. Cioè assumere una prospettiva in qualche modo in cui l'economia sociale c'entra e quindi non è residuale, cambia le ricette dello sviluppo. Tenete conto che sviluppo è diverso da crescita. Normalmente si parla di sviluppo e di crescita nello stesso modo. Sono due parole completamente diverse. Sviluppo etimologicamente significa togliere i viluppi, togliere gli ostacoli. Sviluppare significa aumentare il grado di libertà di una politica, di un territorio, di un paese. Si crea sviluppo quando si aumenta il grado di libertà, di azione, di protagonismo. Diciamo che lo sviluppo quindi è una precondizione per la crescita. Non c'è crescita senza sviluppo. Le ricette oggi dello sviluppo, qui vado veloce, che possiamo vedere un po' nello spettro così internazionale perché ormai siamo in un contesto da cui dipendiamo molto anche nelle ricette. Noi in qualche modo siamo in Europa e dobbiamo leggerci giustamente dentro questo tipo di, a mio avviso, opportunità. ci sono tre ricette, le semplifico, in cui lo sviluppo è declinato, i tentativi di sviluppo sono declinati. Il primo con un rilancio dello sviluppo attraverso un nuovo ruolo dello Stato, di regolamentazione. Pensate al tema anche di Basilea e della finanza. Cioè a fronte di un fallimento si fa una regolamentazione, piuttosto che altre norme, il fiscal compact e altre. Regolamentazione dello Stato che interviene all'interno del fallimento di un sistema che in qualche modo non ha funzionato. L'altro aspetto, l'altra ricetta, è quella di aumentare l'apporto e il contributo sociale delle imprese. Un anno e mezzo fa Porter, il guru del management americano, ha totalmente cambiato la prospettiva che identifica il fine dell'impresa e ha detto guardate, l'impresa ha come obiettivo non più quello di massimizzare il suo profitto che era l'ipotesi che ha guidato dalla scuola di Chicago ad oggi. Ma l'obiettivo dell'impresa sta anche, quindi non è più la massimizzazione, ma è la massimizzazione del profitto internalizzando il rapporto con la comunità e i suoi stakeholder. Cioè non si può solo massimizzare il proprio profitto, perché questo alla fine diminuisce la competitività dell'impresa. Quindi siccome il profitto dipende dalla competitività dell'impresa, la competitività dell'impresa la si ricava dalla sua capacità di relazionarsi, di condividere il suo valore con la pluralità di stakeholder, di portatori di interesse, lavoratori, territorio, comunità eccetera eccetera. Se fate caso tutto il tema del welfare aziendale nasce su questo. Oltre ad essere un ottimo beneficio intangibile per i propri lavoratori diventa anche un modo per essere più competitivi. L'altra ipotesi è quella di puntare su un pluralismo di forme giuridiche, di impresa. Cioè dire lo sviluppo, bene che si generi sul for profit, ma esistono anche forme, altre forme, che possono garantire attraverso una pluralità di identità, contributi diversi. Arricchiscono il contributo economico apportando un valore sociale. Ora queste non sono ovviamente una contro l'altra. Oggi noi ne vediamo un mix di queste. Serve solo a farvi vedere i livelli. Oggi sono presenti in qualche modo sullo scenario tutte e tre. C'è chi punta più sull'una, chi più sull'altra e chi più sull'altro ancora. Ora vado veloce, sto sulla terza perché è quella che mi interessa di più. Perché l'economia sociale è particolarmente valorizzata dentro questo approccio. L'economia sociale è innanzitutto, ha come idea di fondo, quella di aumentare l'offerta di servizi di interesse generale, attraverso modelli di impresa diversi. Modelli di impresa che spesso nascono dal basso, visto che qua c'è qualcosa che anche porta il nome, e modelli di impresa inclusivi. Non è una parolaccia, è un modo diverso di fare impresa. Cosa significa? Significa che mentre io in un modello di impresa tradizionale produco valore e lo estraggo, esistono altri modelli di impresa che producono valore e lo internalizzano. Le imprese sociali, le cooperative, le cooperative sociali, l'economia sociale ha una piccola caratteristica che non sarà mai delocalizzabile. Poi può succedere di tutto, ovviamente. Però diciamo che è una forma giuridica che più di altre garantisce questa cosa. Tant'è che tutte le ricerche cosa ci dicono? Che laddove più alta la presenza di soggetti dell'economia sociale, lì, statisticamente, l'indicatore di disuguaglianza è più basso. Perché c'è una modalità di redistribuzione del valore che è più equa. L'esempio classico che si fa è fra Lombardia e Emilia-Romagna. L'alta densità di soggetti della cooperazione in Emilia-Romagna garantisce, a fronte di una minor, diciamo, in termini di procapite, di produzione di reddito, una miglior qualità della vita perché è più equamente redistribuita. Quindi il tema è questo. Quindi il tema dell'economia sociale è un tema che va posto all'interno di un modello plurale, paritetico, in cui l'economia sociale gioca un ruolo pubblico ed economico. All'interno di un modello di sviluppo che prevede una pluralità di forme. L'altro elemento fondamentale è questo. Guardate questo grafico molto velocemente. Questo grafico esprime, è fatto da un economista svedese che si chiama Viktor Pestov che ha un po' scommesso sulle prospettive di welfare del suo paese, la Svezia. Ora, siamo in un paese ovviamente dove la welfare funziona, quindi so di essere inattaccabile da questo punto di vista. Per cui se lo fa lui, nel suo paese dove il welfare è efficiente, organizzato dalla culla alla tomba, in cui in qualche modo c'è una copertura del bisogno efficiente e efficace, questa cosa qui è abbastanza credibile, soprattutto se la riportiamo a noi con quello che abbiamo detto precedentemente. Bene, cosa dice Viktor Pestov? Viktor Pestov fa un'ipotesi e dice, siamo al 2005 e vedete che nella parte del 2005 lui prevede, rispetto alla copertura dei servizi e le prestazioni, lo Stato in gran parte è presente, c'è il terzo settore e c'è il for profit. Questo è un pochettino la torta nel momento in cui lui nel 2005 fa la ricerca. Prevede nel 2030 due scenari. In entrambi gli scenari, fate caso, lo Stato è fortemente ridotto, cioè lo Stato è in qualche modo allineato sulla garanzia di bisogni, di bisogni che in qualche modo sono un pochettino di protezione, tendono a coprire i bisogni universalistici. La stima che lui fa sulla Svezia è che lo Stato tenda sempre più ad occuparsi di una copertura universalista. L'altra gran parte della fetta la prevede in due scenari, cioè dice o si va verso un scenario di privatizzazione, modello americano, ci assicuriamo tutti, oppure bisogna costruire un'alleanza con altri soggetti. Lui dice che sono quelli del terzo settore, intesi come economia sociale in questo caso. Quindi qual è l'incentivo che ci arriva? E guardate come la chiama democratization, cioè un'ipotesi di democrazia economica, cioè di pluralismo di soggetti. Perché ovviamente quando stiamo dentro la dicotomia solo Stato-mercato, inteso come for profit, è chiaro che alla fine si va dentro un modello in cui o ci si assicura o altrimenti sappiamo già che lo Stato purtroppo, perché se potesse andrebbe benissimo, ma purtroppo non riesce ad arrivare ovunque. Ecco quindi che l'economia sociale è fondamentale perché ci permette di costruire una prospettiva di sviluppo del nostro welfare che in qualche modo tende ad essere avversa a una prospettiva che sembra quasi inesorabile di forte privatizzazione delle prestazioni e anche quindi delle coperture. L'altro elemento, quindi il primo è questo, il modello. L'economia sociale è fondamentale e lo devono capire non solo quelli dell'economia sociale interpretando questo ruolo, quindi non accessorio, ma anche in qualche modo la pubblica amministrazione. Proprio per questo, per andare verso un modello di democrazia economica. Secondo elemento, l'economia sociale perché? Perché l'Europa sta puntando sull'economia sociale. L'Europa sta puntando sull'economia sociale perché ha capito che non è soltanto un sostegno alla socialità, è un asset per la competitività dell'Europa, è la peculiarità dell'Europa, è il modo con cui l'Europa si distingue da tutti gli altri e attraverso questo processo di coesione sociale riesce a garantire anche un diverso modo di produrre. E come vedete l'economia sociale dal 2009 quando la TOEA con la prima risoluzione affermò l'economia sociale, i numeri dell'economia sociale, da lì in avanti è partita una serie di iniziative che cambieranno a mio avviso in gran parte anche le politiche, la progettualità in particolare europea delle imprese sociali. Cioè parole come social enterprise, social innovation, diventano i driver per una nuova progettazione che punta su questi soggetti per produrre valore economico e innovazione. Qui ci sono un po' da Europa 2020 fino alla social innovation initiative, fino alla social business, social innovation agenda che fra l'altro ha fatto il nostro ministero dell'istruzione recuperando questi documenti. Quindi sono documenti che attraverso gli incentivi di natura economica ma anche di policy riorienteranno molto l'economia sociale italiana che deve essere pronta ad avere questa apertura, che è un'apertura imprenditoriale. Guardate bene, l'Europa vuole imprese sociali, cerca imprese sociali, non cerca soggetti che esternalizzano e basta, cerca imprese sociali. Cioè soggetti che innovano, soggetti che imprendono. Imprendere, imprenditore ha tre caratteristiche, il primo rischia, secondo innova, terzo ha una capacità di combinare i fattori che ha in mano, le persone e le cose. Poi accessorio, l'imprenditore produce valore aggiunto che non è detto che debba essere poi distribuito in profitto. Il valore aggiunto può essere economico, imprese for profit o sociale, imprese sociali. Quindi cerca queste cose. Quindi l'Europa cerca in qualche modo di valorizzare questi soggetti. Perché lo cerca? E vado veloce. Un'altra caratteristica per cui li cerca è che sono soggetti che più di altri sono in grado di produrre occupazione. Perché? Perché mentre un modello di impresa tradizionale è basato appunto sulla massimizzazione del profitto, un'impresa sociale massimizza cosa? La componente del lavoro. Per questo c'è la famosa resilienza delle cooperative sociali, della cooperazione dell'economia sociale. Perché la risorsa a cui vanno in qualche modo, che vanno a costruire, è quella di massimizzare l'interesse del lavoro. Non è appena la remunerazione del capitale. L'inclusività di cui parlavo prima. E i dati sono evidenti. Cooperative più 8% nell'anno della crisi, mercato del lavoro meno 1, imprese meno 2,3%. Per non parare poi all'interno del mondo della cooperazione, il tema della cooperazione sociale. Dati census 2007-2011, un aumento del 4,1%. Quindi anche negli anni in cui c'è la contrazione della spesa pubblica e quindi c'è meno potenzialità. E poi l'Istat. L'Istat ci ha detto che l'Italia è non profit. sempre di più non profit. Questi sono i numeri, li lascerò poi dopo se non li avete. E fa vedere com'è cresciuto il non profit in Italia. È cresciuto in un decennio in cui ci sono state profonde trasformazioni, in un decennio in cui lo stato è dimagrito, il mercato fino al 2005-2006, l'economia ha funzionato in un certo modo e dopo c'è stato un break strutturale. Siamo tornati indietro di 10-15 anni sulla produzione del PIL. La Puglia, dei dati, ci sono 15.000 organizzazioni non profit, 26.000 addetti e 121.000 lavoratori esterni. 178.000 volontari. Questo non è soltanto un asset sociale, è un asset economico. Spesso si dice qual è il valore dell'economia sociale e si fa fatica a trovare degli indicatori perfetti. Proviamo a immaginare per sottrazione, proviamo a togliere 178.000 volontari, 121.000 e passa lavoratore e vediamo cosa succede nella vita di ciascuno di noi in generale. Potrei dirlo per ogni regione. E poi va bene, le cooperative B, circa 4.000, 45.000 soggetti svantaggiati. La cooperazione in Italia in qualche modo serve 7 milioni di utenti. Sono numeri pazzeschi. Per non parare poi dopo, e questo è un altro tema su cui non mi soffermo, del potenziale di imprenditorialità sociale che c'è nel non profit piuttosto che nel for profit. Un altro aspetto di valore dell'economia sociale. Quanto tempo? Ancora 10 minuti? Un altro aspetto fondamentale dell'economia sociale. Guardate questo grafico, questo grafico l'ha fatto vedere Draghi all'interno di una sua lezione magistralis quando era ancora governatore della Banca d'Italia ad Ancona. E ci dice una cosa, ci dice una cosa interessante, ci fa vedere nella curva in grassetto il PIL, la crescita economica tradizionale, la variazione monetaria degli scambi all'interno di un paese. Dall'altra parte c'è la soddisfazione, dati stat, eurobarometro, della popolazione. Vedete che fino a un certo punto la crescita economica era correlata la soddisfazione delle persone. Da un certo punto in avanti, siamo intorno a 95, dove c'è stato un aumento forte dell'economia, erano le condizioni magari in cui si, un momento storico in cui c'erano le condizioni migliori e quindi il PIL è continuato a crescere, abbiamo avuto un abbattimento della qualità, della soddisfazione delle persone. Cosa significa questa cosa qui? Significa appunto che non è la variazione della ricchezza la principale dimensione della soddisfazione delle persone. Cioè la qualità della vita dipende fino a un certo punto dalla disponibilità di reddito disponibile. Da un certo punto in avanti è fondamentale un altro elemento di cui oggi c'è scarsità. oggi viviamo in un momento di abbondanza di beni e scarsità di relazioni. L'elemento fondamentale che apporta aggiuntivo anche l'economia sociale è quello di apportare beni relazionali. C'è un'economia che, e l'avete descritto bene anche nel modo in cui per esempio onetability si relaziona, è un'economia che fa leva sulle relazioni. La dimensione relazionale è apportata dentro il mercato dall'economia sociale, questo è fondamentale. Si chiama capitale sociale. Il capitale sociale, i territori che non hanno capitale sociale non saranno mai competitivi. I territori che non hanno capitale sociale si svilupperanno meno degli altri. Se uno va a vedere anche, uscendo dal sociale, e va a vedere la Silicon Valley, c'è un libro che si chiama The Rainforest che ha dato conto di come si è sviluppata tutta l'innovazione, fa capire che l'elemento non è appena solo necessario l'apporto tecnologico, le università, gli incubatori, ma è il tessuto relazionale che gira intorno a sta cosa, è l'ecosistema. Per cui uno può andare a farsi un caffè, incontra un amico e fa una start up. Dopo questo lo dici perché non è secondario. Quindi il capitale sociale è un asset fondamentale e l'economia sociale apporta questo elemento. Il mercato consuma relazioni, l'economia sociale le riproduce. Ecco quindi un elemento fondamentale dell'economia sociale. Portare bene relazionali, costruire capitale sociale, perché? Perché è una forma impresa diversa dalle altre. Qual è la grande diversità fra un'impresa sociale, quindi il valore aggiunto, l'impresa sociale rispetto a un'impresa tradizionale, mediamente? E' che l'impresa sociale è un soggetto collettivo. E' un'imprenditorialità collettiva. Nasce da relazioni. Ricerca sull'impresa sociale in Italia, che abbiamo curato io e Flaviano Dandonai. 68,1% delle imprese sociali nasce da un gruppo di persone con ideali comuni. E questo non è secondario. Quindi l'impresa sociale ha tre tipi di valori. Un valore d'uso e un valore di scambio, tipici di ogni tipo di impresa. In più internalizza un altro valore, che è il valore di legame. Sfido chiunque, dentro un'impresa sociale che si ritenga tale, di non recuperare anche una dimensione di legame fra le persone che lavorano. E che poi si riflette nel modo in cui si va a regolare il servizio. Quindi questo è un altro elemento. Arrivo in fondo, sono sul tema dell'innovazione. L'altro elemento fondamentale è che l'economia sociale è un soggetto straordinario di innovazione sociale. Straordinario. Perché? Perché è il soggetto che è più vicino alla domanda. È sulla domanda. È sul bisogno. È sulla comunità. In alcuni casi, pensate alle cooperative, ce l'hanno nella governance la domanda. Ce l'hanno dentro. Quindi sono in grado, fin da subito, di attivare in qualche modo risposte. Banalmente il volontariato è sempre stato un motore straordinario di innovazione sociale. Che poi, per esempio, nel tempo, nel primo ciclo di innovazione sociale, si è trasferito e ha formato le cooperative. Cioè è stato il meccanismo generativo di un'imprenditorialità sociale che ha cambiato tante cose. Fra cui il modo di fare le politiche sociali. Le politiche sociali le ha totalmente destituzionalizzate e oggi si può dire, tranquillamente, tutti lo possono dire, che si fanno politiche sociali attraverso anche un modello imprenditoriale. perché, appunto, la pubblica amministrazione coopera con i soggetti dell'economia sociale. E ha cambiato anche il modello di fare impresa. Perché l'impresa, appunto, lo dicevo prima, non è più solo quella che massimizza, ma è anche quella che produce valore sociale. Quindi l'innovazione più grande della cooperazione sociale, a mio avviso, è questa. Ma bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti. E qual è l'elemento fondamentale di questa innovazione? Vi faccio vedere, si parlava prima anche di innovazione sociale. È una parola di cui per i prossimi due o tre anni sentiremo parlare solo di questa. Vi dico la mia definizione di innovazione sociale presa dalla Stanford University, che definisce l'innovazione sociale una soluzione innovativa a un problema sociale più efficace, efficiente, sostenibile e giusta di quelle esistenti che produce valore per la società nel suo complesso piuttosto che per i singoli individui. Al di là della definizione c'è un elemento che vorrei sottolineare, è questa cosa qui. L'innovazione sociale non è solo, questo lo dice Paolo Venturi per quello che pensa lui, ciò che produce un impatto sociale. No. Ci sono tante cose che producono valori in un certo modo, a mio avviso sbagliato, e producono un impatto sociale. Non è indifferente come lo produci e che tipo di risultato dai o hai. Questa parola sostenibile e giusta per me è discriminante. Non è innovazione sociale quella che produce un impatto che non produca anche maggiore equità. non è innovazione sociale quella che non garantisce una sostenibilità, che sia ambientale o che sia. Quindi il tema dell'innovazione sociale si deve misurare anche con una funzione di utilità che internalizza l'equità, l'uguaglianza e anche la sostenibilità ambientale quant'altro, che oggi è fondamentale. Quindi non basta solo avere un impatto sociale. Diciamo che la condizione è necessaria, ma non è sufficiente. In questa logica qui è ovvio che l'economia sociale come soggetto collettivo è un motore di innovazione sociale. Perché proprio per le caratteristiche che dicevo prima, modello inclusivo, riesce a garantire sia l'innovazione ma anche l'equità. E lo sta già facendo. In questi ambiti, la sanità, la green economy, i servizi pubblici, il turismo, community asset, cooperative di comunità, sono tutti ambiti in cui l'economia sociale, cooperativa o no, presa sociale o altre forme, sta già sperimentando nuovi modi di fare innovazione sociale. Cioè sta rispondendo a bisogni a cui nessuno sta rispondendo. Ed è la sfida dell'economia sociale per i prossimi dieci anni. Sono verso la chiusura. E arrivo a questo aspetto. Questa frase qui è importante, a mio avviso, perché dà conto di un movimento che è in atto è che per esempio anche voi, per esempio con il vostro progetto Bolenti Spiriti, state cercando di valorizzare e a mio avviso anche in maniera pionieristica e profetica rispetto anche ad altre parti d'Italia. Bene, quando il distacco fra bisogni sociali e servizi e offerti è troppo profondo, pensate oggi, si creano degli spazi per l'agire auto-organizzato di singoli o di gruppi di persone. Cioè siamo in un momento di crisi, siamo in un momento di distacco fra i bisogni sociali e servizi offerti. Però dentro questo distacco c'è l'opportunità per uno spazio di innovazione sociale di protagonismo nuovo. Che può avvenire, e lo ripeto, solo dal basso. Cioè può essere attivato solo dal basso. E che richiede come condizione necessaria un apporto anche istituzionale. Queste sono le due condizioni. Un'unica dimensione che ha meccanismo generativo dal basso e che comunque la dimensione istituzionale deve poter riconoscere e valorizzare. Ecco quindi il rapporto giovani... Io non sono così pessimista anche sul tema del lavoro. L'ultimo rapporto dei giovani con Union Camera ci parla di 675.000 imprese giovanili. L'11% del totale che producono il 17,2% del PIL. Quindi i giovani stanno avanzando. Non c'è innovazione senza fattore generazionale. L'altra cosa è l'imprenditorialità. È un'imprenditorialità diversa e per esempio è molto straniera. Queste sono le caratteristiche. Abituiamoci a questa biodiversità. 13.000 di queste sono cooperative di giovani. Che sono il 9,1% di tutte le cooperative. E hanno un saldo nel 2012 di 1.200 con un tasso del 12,2%. Quindi piano piano, carsicamente dal basso, sta venendo su qualcosa. Che è qualcosa di nuovo. Startup innovative. È stato fatto un decreto, è stato fatto un sapete tutto. Io collateralmente ho partecipato nell'ambito soprattutto della parte delle startup a vocazione sociale. Da marzo a pochi giorni fa siamo arrivati quasi a oltre a mille startup innovative. Di cui circa, questo è un calcolo che abbiamo fatto noi di Icon, 232 operano nei settori del sociale. Intesi come i settori della legge 155, sono le categorie dell'impresa sociale. Solo però di queste 18 sono cooperative. E questo dovrebbe interrogare la cooperazione. Però quello che voglio restituirvi è che c'è, dal basso si sta muovendo qualcosa. Una spinta forte di innovazione anche in ambito sociale. L'ultima cosa. Se questo è un pochettino quello che mi avviso è il valore aggiunto dell'economia sociale, bisogna avere la forza anche di cambiare gli indicatori con cui l'economia sociale viene misurata. Cioè l'economia sociale, se tiene insieme sociale ed economico, non può essere solo misurata con criteri di efficienza. Banalmente tutto il tema delle gare è al massimo ribasso. Ciò che noi misuriamo influenza le nostre azioni. Se usiamo indicatori sbagliati, ci sforzeremo di raggiungere obiettivi sbagliati. È chiaro che se pubblica amministrazione, policy, ci danno degli indicatori sbagliati, è chiaro che gran parte dei soggetti si muoverà verso questi indicatori e anche gli obiettivi non saranno quelli. Quindi è importante a mio avviso costruire un setting di indicatori, Emilia Romagna un po' abbiamo fatto qualcosa, che tengano insieme sia il valore economico, sia il valore sociale, sia un valore culturale e sia il valore istituzionale. Inteso come anche ambientale. Quindi è termino collegandomi al tema di oggi e appunto all'inserimento lavorativo. Con una definizione di non profit che a mio avviso c'entra molto con quello che stiamo facendo o state facendo voi adesso. Cioè il tema del capitale umano, il recupero dei soggetti svantaggiati. Termino con questa definizione che a mio avviso è lungimirante e soprattutto è esemplificativa ed è credibile perché è fatta da un soggetto che non c'entra niente con non profit, è Peter Drucker ed è il guru, anche questo qui insieme a Porta, del marketing americano, del marketing non profit. Che improvvisamente ha scoperto il non profit, come in tanti sulla via di Damasco in questo momento di crisi, e l'ha definito e termina con questa definizione che ha dato lui di non profit. L'ha definito così, non a scopo di lucro, non imprenditoriale, non governativo, sono tutte definizioni negative ed è impossibile definire qualcosa dicendo ciò che non è. Cosa fanno dunque tutte queste istituzioni, le non profit? Guardate bene, non profit, non no profit, cercate anche voi, non no profit, perché non profit vuol dire not for profit. No profit significa no profitto, mentre le imprese sociali, non profit, devono fare profitto. Il problema è che non loro distribuiscono, se no non crescerebbero mai. Quindi, cosa fanno dunque queste istituzioni? Innanzitutto, ed è una scoperta recente per lui, per molti altri, per voi, questa cosa forse non è così recente, hanno in comune l'obiettivo di cambiare gli esseri umani. Il prodotto di un ospedale è un paziente curato, quello dell'esercito della salvezza, siamo negli state, l'unica organizzazione che raggiunge i più poveri, eccetera, eccetera, è un derelitto che finalmente diventa un cittadino. Il prodotto delle scout girl è una donna matura che ha acquisito valori. Il nome più giusto per le organizzazioni non profit sarebbe, e questo è emerso anche dagli esempi che avete fatto voi sul tema dei disabili, sul lavoro e di come lo fate, istituzioni per il cambiamento umano. Ecco, io penso che il tema dell'economia sociale abbia come chiosa finale proprio questo, che siano istituzioni che non si occupano solo dell'oggetto, cioè di rispondere a un bisogno, ma che abbiano nel loro DNA e come mission prioritaria quella di cambiare anche il soggetto. Grazie. Ringraziamo il dottor Paolo Venturi per il prezioso contributo che ci ha fornito questa mattina. su temi molto molto importanti e sui quali l'IPA, l'ASP e l'Istituto Immacolata, ma anche tutti i suoi partner, stanno da tempo lavorando. Passo la parola al dottor Mauro Ponzi, presidente Consorzio Mestieri, che tratterà l'argomento sulle cooperative sociali di tipo B. Buongiorno, grazie per l'invito, grazie a tutti. Io non so se siate tutti consapevoli di cosa succede quando si chiama un capitano di lungo corso. Sono la tentazione di dire che c'erano dei tempi belli, io chiamo il reducismo, è sempre lì in agguato. Per quanto mi è possibile cercherò di fare come lo scriba descritto dal Vangelo di Matteo, che è divenuto saggio, spero di esserlo, estrae dal suo scrigno tesori vecchi e tesori nuovi per andare avanti. Allora, io ho messo questo titolo perché in effetti, sono stati vent'anni della legge 381-91, eccetera, ho colto una tentazione celebrativa e poca spinta su costituire nuove imprese, andare avanti, ripensare, rimodellare, e rimodellare quella che è la cooperativa sociale oggi. Un altro rischio è quello che può dare. Un altro rischio che avete fatto è che avete chiamato uno di Reggio Emilia, al di là della facile battuta che ci ricordo dalle mie parti, cosa fanno nove reggiani quando si incontrano? Una cooperativa, che questo è un radicamento storico vecchio e datato, e anche, per certi versi, il rischio di chi è nato, è cresciuto e vissuto come me in questo brodo di culture. Noi da bambino non andavamo a fare la spesa in drogheria, andavamo alla cooperativa e si diceva così. La mamma diceva, va in cooperativa a comprare un litro di latte. E c'era la piccola cooperativa di consumo del quartiere dove si andava a comprare il litro di latte. Per evitare questo, per non cadere in un panco per attivismo anche gratuito, io amo molto uno scrittore, purtroppo è morto l'anno scorso investito da un'automobile a Milano, che è Giuseppe Pedariali. È uno scrittore che scrive di cose padane, ma ha fatto delle cose interessanti rispetto alla Puglia. In un romanzo suo ha descritto due capitani di ventura modenesi che vennero in Puglia a cercare gli eredi, anzi, il presunto figlio illegittimo di Corradino di Svevia, perché volevano riportarlo sul trono dopo la morte di Corradino, che è una persona da grande fantasia. E ha scritto un piacevole romanzo di storie di Po, Il paese delle amanti giocose. Uno di questi racconti, non è un romanzo, sono racconti, scrive in un paese che c'era una certa signorina che si chiamava Dorella, che non faceva mistero di avere come suo progetto di vita quello di sposarsi una persona ricca e facoltosa del paese. Posto che nel paese non c'era nessuna persona che avesse i requisiti richiesti di mantenere la signorina Dorella, gli uomini cosa fanno? Costituiscono una cooperativa di consumo, si mettono insieme per chi produceva il bene, la signorina Dorella, e chi ne usufruiva, che era la cooperativa degli uomini del paese. Non c'è niente di triviale, scritto in maniera molto delicata, ma è una fondamentale presa in giro di pederiali su che tutto si può risolvere facendo una cooperativa. È un tema in cui si sente. Oggi quando sento di parlare di risolvere il problema della prostituzione, dico che possono fare una cooperativa dei prostituti, come ci sono anche altre forme societarie. Dico perché sulle cose, diciamo un po' così, si pensa e si immagina una cooperativa. In realtà noi paghiamo anche il fatto, non paghiamo i dati che ha detto Paolo, veniamo da una ciclicità di uno sviluppo straordinario. Uno sviluppo straordinario su cui nessuno aveva scommesso. Le centrali cooperative, al nascere delle prime cooperative di solidarietà sociale, piuttosto che integrate, come le chiamava qualcuno, o di inserimento lavorativo, non ebbero un atteggiamento né ostativo né propositivo. Danno o non ne fanno, sono lì, non andranno molto lontano. Nessuno, nessuno dei grandi tecnici del movimento cooperativo, dei centri di studi, pensava che si sarebbe aperto con la nascita e lo sviluppo delle cooperative sociali, un capitolo nuovo sia per la cooperazione, sia per il sistema di welfare, sia per l'economia italiana. Per riuscire a capire qual è stata la molla fortemente comunitaria, e questa va recuperata oggi anche nei sensi delle cose che diceva Paolo prima, è che in effetti queste cooperative sono partite dal basso, perché non è che qualcuno le abbia inventate a tavolino, sono partite dal basso da aggregazioni di cittadini, prima che da aggregazioni attorno a un bisogno. Se voi pensate, lo dico perché mi piace anche ricordare, stante il fatto che abbiamo un pubblico abbastanza giovane, e queste cose nascono ai primissimi anni settanta, e io ritengo con due spinte fondamentali che sono stati, per certi versi, uno start-up. Uno, per dare una sigla, chiamiamolo il movimento del 68 e dintorni, e l'altro il concilio Vaticano II. Dico perché queste due polarità? Perché quando a seguito della ribellione rispetto a qualsiasi tipo di autorità costituita, si contestava il potere dell'università, si contestava il potere della scuola, dell'autorità civile, della famiglia, dei genitori, l'icona massima dove questa violenza istituzionale si esercitava erano i manicomi. Quindi i manicomi sono diventati l'icona, proprio il simbolo delle cose da cambiare. E da quest'icona sono nati i primi gruppi che ponevano al centro del riscatto dei pazienti psichiatrici A, uscire dal manicomio, B, avere un lavoro. E quando parliamo di manicomio in quegli anni, io ricordo benissimo la mia città, è un istituto psichiatrico con 2.500 pazienti, perfettamente, fra virgolette, organizzato, e io ho conosciuto in comunità di alloggio l'ultima generazione di gravi disabili praticamente dalla nascita ricoverati in manicomio, perché c'era il settore degli schizofreni, dei bambini, dei bambini, io mi ricordo ancora, che ogni tanto si andava a giocare a calcio con la squadra dei bambini del manicomio. C'erano gli infermieri che ci dicevano non dovete fare del male, insomma, state soprattutto assieme, non fate neanche una partita vera, c'è tutta una serie di attenzioni, ma c'erano i bambini in manicomio. E sto parlando, sì, del millennio scorso, sono passati anni luce, però lì si è incominciato a dire che l'autoimprenditoria, il poter pensare un lavoro per queste persone era una cosa da farsi. Ho citato il Vaticano II, ho citato il Vaticano II perché in quella fase si comincia ad aumentare la consapevolezza delle comunità che il problema dell'accoglienza dei soggetti svantaggiati non era più delegabile agli specialisti, fra virgolette, del settore. Io credo di essere in casa, forse di un'ex opera Pia, che non so quanti centinaia d'anni potrebbe avere alle spalle se sono come quelle di casa mia, ma c'erano tutte queste strutture proposte e fatte dalla Chiesa dove congregazioni religiose, vedevolissime per carità, comunque risolvevano un problema sociale. Voi che fosse per gli orfani, voi che fosse per le donne abbandonate, voi che fosse anche per gli ospedali, se andiamo indietro, gli istituti ospedalieri. Invece aumenta questa percezione e allora anche le comunità del territorio, diremmo oggi, che poi in sostanza nelle parrocchie o circuiti, cominciano a vedere che al loro interno comunque qualcuno in stato di bisogno c'era. E si fecero degli start-up tribolati, perché l'idea poi di fare una cooperativa che avesse nella sua base sociale soggetti così diversi fra di loro, come poteva essere un qualche pedagogista illuminato, con qualche infermiere dell'ospedale psichiatrico, un qualche sindaco che ha creduto nel progetto delle cooperative di inserimento lavorativo, oltre ai pazienti e alle loro famiglie, uno dei primi temi è quello di individuare, a tema di attualità anche oggi, che tipo di attività produttiva potevano esercitare questo tipo di persone. Oggi come ieri, questo è assolutamente importante. Guardate che l'idea originaria che sta alla base delle cooperative sociali non era l'idea di dire prendiamo il contributo, con questo paghiamo gli operatori, probabilmente in fase iniziale questo aspetto c'era e la cooperativa sta in piedi, oppure ci facciamo pagare una retta, perché è così, di fatto vendiamo, scusate, vendiamo fra virgolette, il lavoro quando in realtà si prestava è una prestazione di tipo assistenziale, che sono due cose diverse, la confusione su queste cose ci ha danneggiato, perché credo che se ci sia bisogno e spazio per laboratori di terapia occupazionale questi non vadano confusi con l'attività produttiva che deve mettere insieme una cooperativa sociale. Molte cooperative ci sono riuscite, nel senso che giocando molto bene fra il tipo di svantaggio diverso sono riusciti anche a dare una risposta a laboratori economicamente assolutamente in perdita, ma che entrano nel progetto complessivo dell'azienda, dell'impresa sociale dove altri settori comunque generano risorse perché al proprio interno ci possono essere anche persone che dal punto di vista della capacità produttiva sono prossimi al 2, al 0,10, diciamo una cosa di questo tipo. Allora, dopo poi, dopo gli economisti ci hanno dato tutti i nostri bei nomi, il discorso degli stakeholders, eccetera, che è una cooperativa deve essere aperta, ma è proprio così. Direi che era così all'inizio, si è persa nel corso del tempo e adesso credo sia assolutamente importante andarla a recuperare. Perché? Per il discorso dei legami di comunità, del bisogno di relazioni, del bisogno di stare assieme con un progetto condiviso. Non è facile fare impresa. Forse era più facile ieri e oggi, ve lo dico con molta serenità, a casa mia, quando qualcuno mi viene a chiedere di fare una cooperativa gli dico no. Gli dico no perché forse c'entra anche come connotato il mio territorio. Dico, guarda, secondo me la cooperativa PINCO può farti da incubatore di impresa, quindi tu con patti chiari vai a discutere con la cooperativa PINCO un nuovo ramo di impresa, ne tieni la contabilità distinta, incominci a fare imprese in quell'incubatore, quando quel ramo d'azienda raggiungerà certi step, allora fai lo spin off e non parti senza nulla. Perché ci vogliono capitali. La storiella l'abbiamo fatta, l'ho fatta anch'io della cooperativa che si costruiva con 5.000 lire di capitale a testa, dico oggi non regge. E credo anche il discorso della capitalizzazione sia un discorso che vada ripensato. E sulle nostre cooperative su questo sono indietro. Perché pensano che non ci sia bisogno di capitale per fare impresa, non è vero. Poi se possono utilizzare risorse pubbliche per gli start-up va benissimo, però l'importante è che ci sia un piano imprenditoriale serio. Viceversa è inutile, scusate se non è anche brutale, ma questa è proprio la mia esperienza, illudere gente che si può fare impresa, che l'impresa si regge da sola. L'impresa non si regge da sola. Siamo passati nel corso degli anni da lavori assolutamente improbabili. Mi ricordo terziario di assemblaggi a centesimi a pezzo, che comunque sono state le prime esternalizzazioni improprie. in realtà erano speculazioni di imprese che davano pezzi di produzione a aziende. Ma ho visto anche l'estero, l'inventiva, l'energia giovanile di alcuni giovani che comunque da queste cose sono partiti e ho visto ancora a metà degli anni 70 un giovane ingegnere che aveva fatto l'obiettore, aveva stato due anni, 24 mesi in questa cooperativa, aveva inventato una macchina che metteva in blister di tutto, non alimentare, cioè le due biro con cartoncino, eccetera, adattata al funzionamento a tre disabili che lavoravano all'interno della cooperativa. Quindi ci vuole anche un po' di intelligenza imprenditoriale, di andare a innovare su queste cose. Ma torniamo ancora indietro. sempre nella storia della cooperazione, la cooperazione si è modificata e cambiata, aggiunto delle proprie cose per rispondere allo scenario nel quale si trovava. Ma la storia su questo è di una coerenza assolutamente unica. Cioè, se è nata la cooperativa di consumo, sappiamo che è nata in Inghilterra due secoli, cioè di andare indietro di due, di due secoli per acquisire delle rate alimentari a prezzi più convenienti. Le cooperative di braccianti agricole che sono nate a cavallo del Novecento o addirittura tutto il rispetto con IUNUS. Io abito in una frazione di Reggio Emilia che oggi conta ben 2200 abitanti, che è un po' dove finisce la periferia urbana e dove incomincia la campagna. Lì nel 1904 è stata costituita una cassa rurale, dico 2200 abitanti oggi, forse nel 1904 erano meno, una cassa rurale che era aperta alla domenica dopo i vespri per un'ora nei locali della Canonica, ma questo serviva ai contadini per avere un prestito per comprare le sementi piuttosto che il vitello. IUNUS non è che abbia inventato il mondo su queste cose. E quindi da bisogni precisi di un mondo agricolo nasce la cassa rurale, oggi BCC, la storia è stata questa, le cooperative di abitazione per dare una risposta alla casa, alle persone indigenti, poi tutti i generi cooperativi che abbiamo, cooperative di pesca, le stalle sociali, eccetera. Allora ti si chiede oggi in questo scenario cosa chiede il nostro paese alla cooperazione. Molte cose le ha dette Paolo che condivido pienamente. C'è bisogno di una nuova generazione di imprenditori perché l'energia che possono portare i giovani è fondamentale per fare impresa nuova. Bisogna ripetere un po' i fondamentali della cooperazione perché soprattutto le mie parti si sono persi. Si sono persi proprio tutto il successo economico, le grandi imprese, usare strumenti improprio per la cooperazione come potrebbe essere e trafficare anche con acquisti di azioni, andare sul mercato borsistico e cose di questo genere che ve le risparmio, perde poi di fatto quello che è il valore aggiunto, che è quello del valore razionale. Quando qualcuno mi chiede ma secondo te qual è il numero ideale di soci in una cooperativa? La prima risposta che mi viene da dare è quella di quando i soci sono in grado di intrecciare fra di loro delle relazioni vere. Non dico mai un numero. Poi si può fare in diversi modi. E quindi anche in fase di crisi ho rivisto con estremo favore che ad esempio cose già capitate in passato in presenza di crisi di grosse imprese e non pensavo che ci si riuscisse anche oggi operai costituirsi in cooperativa e rivela l'attività di aziende e andare avanti. Questo è successo nel comprensorio delle ceramiche, è successo in piccole aziende di meccanica agricola e è successo in situazione di questo. Quindi la capacità che ha lo strumento cooperativo inteso non è assolutamente persa negli anni anche se non godiamo di una grandissima reputazione o meglio c'è chi scientificamente e ciclicicamente quando non sa cosa fare bersaglia la cooperazione accusandolo di ogni cosa. Ma se al mondo ci sono circa un miliardo di persone un miliardo che sono soci di cooperativa gli azionisti di società di capitale sono 350 milioni siamo tre volte più degli azionisti dell'ASPA 300 cooperative di maggior dimensione al mondo realizzano un fatturato di 1600 miliardi di dollari se fossero uno stato rappresenterebbero la nona potenza economica del mondo nei paesi cosiddetti emergenti il BRIC ci sono quattro volte più soci di cooperativa che azionisti di società di capitali il 15% della popolazione del BRIC è socia di almeno una cooperativa ci sono tre paesi in cui la più della metà della popolazione è socia di cooperativa Irlanda Finlandia e Austria sono cose lontane da noi le persone con i numeri più significativi in termini di soci nei paesi con i numeri più significativi in termini di persone soci e di cooperative sono l'India sono la Cina sono gli Stati Uniti parlare di cooperativa negli Stati Uniti di solito vedo i miei interlocutori che mi guardano straniti beh nel paese più borsistico del mondo nel paese di Wall Street solo per fare un esempio esistono 900 cooperative elettriche che producono energia per 42 milioni di persone e se ne guardano bene che so la cooperativa di Detroit a diventare S.P.A e andare in borsa e non rimanere di proprietà dei cittadini molti condomini sono organizzati in cooperative negli Stati Uniti stiamo parlando dei condomini con non so qualche centinaio forse anche un migliaio di unità immobiliari quindi può anche essere conveniente in Germania ma dappertutto quindi a dire il 91% della pesca giapponese è fatta da cooperative insomma quindi continua la cooperazione ad essere molto diffusa nel mondo e in crescita allora io credo che da noi il discorso di fare impresa sia ancora possibile se è chiaro il progetto industriale chiamiamo pure le cose con il loro nome è inutile dire dell'altro grande o piccolo che sia quando si fa un'impresa si richiede un progetto industriale fattore fattore di successo è quello di conoscere leggere e amare un territorio lo diceva Paolo prima non si localizza un'impresa sociale perché perché è figlia del territorio dove nasce e non va altrove almeno nella mia percezione ha nella propria base sociale soggetti con interessi diversi e io qui faccio sempre una critica in casa mia e i miei chiedo se la stessa percentuale di soggetti diversi trova rispondenza nei consigli di amministrazione la risposta è quasi sempre no io sogno il giorno in cui il 30% delle persone svantaggiate che lavorano nelle nostre cooperative siano anche il 30% dei consigli di amministrazione questa è un'altra battaglia che dobbiamo fare innanzitutto noi dirigenti cooperativi e credo che anche in queste cose ci sia la chiave di successo e non fare i conti con tutto il rispetto dovuto visto che c'è una signora assessore qui non tanto per la contingenza economica sfavorevole i comuni non hanno più un quattrino ragazzi questo non esiste proprio ma anche perché l'abbraccio con la pubblica amministrazione se può essere una culla all'inizio poi alla lunga diventa piuttosto soffocante io so che l'impresa sociale l'impresa cooperativa debba mantenere la propria fisionomia la propria identità e la propria autonomia io ridevo quando il padre fondatore della cooperazione di inserimento lavorativo italiana Giuseppe Filippini un signore che fece la prima cooperativa di inserimento lavorativo quello che chiamò di solidarietà sociale la costituì nelle marche girò mesi d'Italia per trovare un tribunale che gli omologasse perché dicevano tutti che era matto e quando ho un corso a giovani cooperatori ci diceva guai a voi se fate delle convenzioni per la pubblica amministrazione noi diciamo è matto nel senso che si era tutti lì perché si inseguiva la convenzione al rapporto con la pubblica amministrazione dico oggi era profetico ma nel senso che poi le cose sono andate in un altro modo per tornare poi invece alle cose più più di oggi anche inerenti al tema di oggi vi ho detto credo non da economista alcuni alcuni fondamentali cosa ci deve essere nel dna di chi vuole fare una cooperativa sociale io oggi faccio il presidenza di mestieri mestieri nasce all'interno del gruppo cooperativo cgm che giusto per un po' di memoria storica cgm sta per consorzio gino mattarelli che fu il primo parlamentare che provò a pensare capire e fare una legge su quelle che divennero poi cooperative sociali è morto prima che poveretto improvvisamente che la legge nel 91 fosse promulgata questo consorzio nazionale abbiamo ragionato molto sul fatto di quali strumenti avesse bisogno la cooperazione e inserimento lavorativo per ulteriori passi di sviluppo l'idea imprenditoriale che era venuta era quella di costituire un'agenzia per il lavoro non quelle che si potevano costituire con le nuove discipline del lavoro ma un'agenzia per il lavoro che avesse al suo interno tutte le caratteristiche delle nostre cooperative sociali una battaglia ideologica non ancora terminata fu non chiediamo l'autorizzazione ministeriale per la somministrazione del lavoro interinale perché questo non è etico su questo ci torno chiediamo invece di diventare una società di incrocio domande offerta di lavoro che sia specializzata sulle persone che noi normalmente incontriamo vediamo e trattiamo stiamo parlando delle popolazioni da da cooperative sociali B facendo le cose che state facendo anche voi nel senso che poi i colloqui gli orientamenti individuare le aziende fare questo è una delle attività del di mestieri che a tutti gli effetti è un'agenzia per il lavoro che si sta sviluppando fra l'altro anche in Puglia lo dico così abbiamo una sede a Bari presso il consorzio Meridia ne stiamo aprendo un'altra sto anche immaginando perché non si possa aprire un sportello di mestieri qui ma su questo discorso presidente magari ci possiamo anche tornare con più calma e con i nostri operativi perché allora diciamo abbiamo bisogno di questo strumento perché le nostre cooperative sociali sono mature per fare queste cose hanno incominciato a guardarsi intorno fuori se vogliamo usare degli slogan uscire dalle caverne e cominciare a conquistare le praterie siamo stati troppo tempo chiusi nella riserva indiana nelle caverne e perché c'era un mondo qualcuno di voi ha parlato prima anche dello spazio non mi viene il termine tecnico aiuto e l'età cioè delle scoperture che molte aziende hanno figuratevi in territori con una densità di aziende ben maggiori come può essere la Lombardia insomma quanti spazi ci possono essere di questo e abbiamo costituito l'agenzia abbiamo costituito l'agenzia che oggi opera su sette regioni e in 19 province e sostanzialmente facciamo le cose che fa un'agenzia per il lavoro siamo l'unica agenzia non profit delle agenzie per il lavoro e questo è stato anche diciamo oggetto di scambi piuttosto vivaci all'interno di Rete Lavoro che è l'associazione delle agenzie per il lavoro non quelle interinali quelle Asso Lavoro Rete Lavoro è quella di quelle 5 o 6 che fanno queste cose perché ci chiedevano con quale filosofia con quale razionato siamo qua siamo sul mercato facciamo le stesse cose voi cosa avete di particolare molto probabilmente di particolare che abbiamo la nostra storia abbiamo la nostra gente e siamo nati soprattutto per queste persone cosa facciamo facciamo servizi alle imprese e abbiamo allargato siamo usciti un po' dalla caverna a volte servizi alle imprese vuole anche dire soprattutto in un mondo di piccola media impresa come può essere quello ancora che regge dalle nostre parti sollevare con profondo sollievo l'ufficio personale di cooperative e non da ricerca e selezione le nostre cooperative di piccole dimensioni non se la sentano non hanno voglia c'è una persona che magari fa il coordinatore del personale manda la gente nei centri compila i cedolini paga di perdere fra virgolette tempo in colloqui di selezione funziona con un mercato interno per cui si dice la cooperativa cores che è una cooperativa di tipo A abbastanza 250-260 soci e lavoratori ha bisogno di uno psicologo mestieri trova e questo discorso è un discorso che va al di là delle persone svantaggiate e delle cose che abbiamo sempre fatto i servizi alle persone sono la dura la dura battaglia anche da noi per le persone che si presentano inoccupate disoccupate mobilifere rendo termine o casse integrate servizi alle famiglie stiamo incominciando qualche sportello la fa di più qualcuno la fa di meno a incrociare domande offerte agli assistenti familiari volgarmente dette di badantato non so quale sia la percentuale qui da noi o la presenza qui da voi di questi tipi di assistenze familiari noi stiamo riscontrando un calo perché abbiamo donne disoccupate soprattutto del comprensorio delle ceramiche che vogliono fare questo tipo di lavoro di assistenza familiare come? Sì servizi per la disabilità sono i servizi insomma quelli che bene o male abbiamo sempre fatto noi che anche voi conoscete bene rispetto alla collocazione del lavoro servizi agli operatori sociali perché comunque vengono ai nostri sportelli per segnalare tutte quelle vite tribolate che non stanno nei parametri da 381 91 che sono tantissime statisticamente credo non ho il dato preciso ma conosco bene alcune cooperative B io direi che il 30% dei soggetti svantaggiati magari è più vicino al 40 almeno la mia esperienza territoriale a questi 40 forse ci si aggiunge un altro buon 20% di quelle che io chiamo vite fragili vite difficili vite tribolate che non sono codificabili nelle categorie dello svantaggio della 381 91 servizi per la pubblica amministrazione perché cosa è successo è successo che molti centri servizi per l'impiego hanno preso atto che questo tipo di lavoro vedi collocazione di persone svantaggiate lo sapevamo fare molto bene hanno esternalizzato questo pezzo di competenza nei centri servizi per l'impiego in molti territori lo facciamo noi e servizi per le imprese sociali che vuol dire comunque insomma un po' come facciamo per le nostre cooperative il nostro mercato interno apre e chiudo rapidamente una parentesi perché noi abbiamo un problema che poi è reale e condiviso noi italiani la 381 ha fissato le categorie di svantaggio a quelle del 91 oggi le categorie di svantaggio sono altre pensiamo agli homeless pensiamo a problemi di alcolismo pensiamo ai disoccupati di lungo periodo pensiamo ai giovani i giovani donne pensiamo alle donne che vorrebbero riaffassarci al lavoro dopo la maternità quindi ci sono tutta una serie di categorie e la discussione se allargare le maglie della legge 381 è una discussione che è apertissima io non sono assolutamente favorevole perché il rischio poi di scivolare all'interno delle cooperative sociali nel trascurare le persone caratteristiche della 381 a scapito di chi magari ha capacità lavorativa da normo dotato è un rischio grande ma io credo che un qualcosa in questo genere bisognerà pur pensare di farlo come vedete giusto per 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 farci capire questa è un po' la somma dei nostri sportelli sul grafico su quante sono state le attività di selezione quante azioni di orientamento quante azioni formative le attivazioni di tirocini bilanze di competenze e le richieste di selezione credo che vi possiate ritrovare sulle attività anche caratteristiche che facciate voi e le persone che abbiamo preso in carico questo è uno spaccato più interessante perché abbiamo visto che rispetto alle alle categorie fra virgolette scusate ai quali siamo stati abituati nella nostra storia di inserimenti lavorativi a lavorare sono indietro persone disoccupate lo sappiamo non c'è un amico al grafico per farci capire che probabilmente sono quelli che maggiormente vengono ai nostri sportelli se qualcuno cinque anni fa mi avesse detto che avrei visto degli operai metalmeccanici da mia parte venire al mestiere e chiedere se non c'era un posto per lo spazzamento manuale delle strade gli avrei detto che tu sei matto oggi succede ahimè capita e anche con grande numero persone immigrate cominciano ad essere tante qui abbiamo adesso il problema delle persone immigrate che hanno lavorato ancora nelle nostre fabbriche nel comprensorio delle ceramiche ad esempio c'erano quasi tutti tantissimi tantissimi magazzinieri ganesi avevamo preso questo giro perché come diceva il mio carissimo amico ganese lavoriamo come dei neri e sappiamo l'inglese e freghiamo gli operai italiani perché l'inglese non lo sanno vero cioè in un magazziniere ganese aveva il vantaggio competitivo non piccolo che se la cavava con l'inglese per le commesse sono disoccupati anche gli immigrati appunto di vista degli immigrati da noi resistono solo gli indopachistani perché tutte le stalle di produzione del parmigiano reggiano hanno i bovari indopachistani questo ormai non le persone casse integrate ovviamente le persone in situazioni di marginalità sociale che sono tante sono in aumento o perché sono in depressione cause appunto perdita o difficoltà sul lavoro e poi più in là in graduatoria i disabili i disabili psichici i problemi di dipendenza i rifugiati richiedenti asilo che stanno aumentando persone ristrette a libertà personale detenuti persone di vulnerabilità e minori apre e chiudo una parentesi rapida sui detenuti esiste effettivamente la possibilità anche di lavorare in carcere io non so se ci siano delle case circondariali qua vicino eccetera sappiate che la cassa depositi e prestiti no scusate la cassa ammende del ministero di grazia e giustizia è una delle cassaforti più pieni di danaro che esistono nella pubblica amministrazione a ragione di un motivo molto semplice quando a un processo penale uno viene condannato alla pena pecuniaria di 7000 euro questi soldi per legge vanno nella cassa ammende e questa cassa ammende deve essere utilizzata per l'inserimento il reinserimento dei detenuti punto e sono anche bravi nella sede centrale della cassa ammende perché difficilmente la cassa ammende ti respinge un progetto di fare impresa in carcere o comunque dove sta il problema il problema sta nel carcere cioè se in quel carcere non è d'accordo il capo delle guardie carcerarie l'economo del carcere il direttore del carcere tu puoi avere tutti i soldi della cassa ammende che lì non ci vai capisco e comprendo la tengo breve questa parentesi la difficoltà della polizia penitenziaria avevamo fatto una ricognizione su rilevare un'azienda di fare un'azienda una cooperativa agricola all'interno del carcere di Velletri il comandante delle guardie mi dice la cosa è molto bella ma se mi porti delle olive c'è del frantoio visto che qua siamo anche in zona di olio la produzione di olive interna del carcere non era tale da giustificare il funzionamento di un frantoio che pure esisteva fatto con la cassa ammende come c'era la cantina c'è del frantoio c'è tutto le guardie carcerarie che mi dicono sì ma se porti dentro delle olive dai conferitori che vengono da fuori chi fa il controllo su quello che c'è dentro noi non abbiamo neanche l'organico da fare il giro intorno al muro come invece dovremmo fare tre volte quattro volte per notte quindi questi sono problemi poi che si leggono e rendono anche difficile laddove ci sono magari risorse possibilità locazioni possibili andarle a realizzare concretamente e queste insomma sono le nostre persone che abbiamo preso in carico vabbè questo grosso modo ripete per sportello questa è l'incidenza dei ricavi per le operazioni che abbiamo fatto gli sportelli di mestieri si devono reggere economicamente cioè non è è vero che abbiamo molti correttivi spesso li abbiamo aperti nella stessa sede dove esiste un consorzio territoriale della rete quindi non hanno spese come quello di aprire uno sportello in piazza a Galatina e affittare un negozio però queste cose riescono a mantenere un equilibrio diciamo economico dell'agenzia che comunque lavora parecchio perché fine la presentazione non me le ha copiate tutte comunque grosso modo l'attività di mestieri consorzio vale oggi 5 milioni e mezzo di fatturato all'anno quello su il numero di sportelli che sono aperti e che vanno i punti di forza e i punti di debolezza il punto di debolezza è che di questi 5 milioni e mezzo il 2% e solo il 2% è fatturato fatto con le imprese profit questo ho dato a tutti i sportelli l'ho dato come obiettivo di miglioramento in un piano triennale dovete andare di più a parlare col profit vi aggiungo questo che ho notato anche personalmente una straordinaria differenza e questo dice come siamo anche noi un po' sommari per certi versi presentarsi a un'azienda profita anche di grosse dimensioni giusto per il discorso delle scoperture sto parlando ad esempio di Max Mara sto parlando del gruppo Ferrarini prosciuttaio sto parlando di entità grosse come cooperative sociali non ti ricevono per gli uffici personale boh cooperative sociali presentarti e chiederti un appuntamento come agenzia per il lavoro sei ricevuto allora credo che nella testa di queste persone che sono a capo del personale anche di imprese grandi che in teoria sono avverso quelli che ne sanno di più ma vale anche per le imprese piccole e medio piccole non abbiano minimamente idea e questo è un problema tutto nostro e tutto interno che non siamo capaci di comunicare bene le cose che facciamo questo è un problema nostro della cooperazione magari pensano che la cooperazione sociale sia un'attività residuale marginale una sorta di associazione di volontariato che fa tre cosettine che spaziano le strade e punto presentarti come agenzia per il lavoro e andare spiegare il mestiere che magari fino a tre giorni prima facevi come cooperatore sociale cambia l'atteggiamento la percezione e l'ascolto degli imprenditori ne ho avuto riprova perché poi è vero che a volte le cose giusto per il discorso delle relazioni nascono perché si incontrano le persone giuste al momento giusto per fatto destino e casualità ho visto una multinazionale danese che produce che ha il brevetto che non produce più in Danimarca o meglio di tutti i nastri trasportatori sia che siano di genere merceologico i nastri trasportatori di questa impresa danese sono quelli dei cicli di produzione della barilla sono quelli che non sono delle cose ma anche sui campetti da sci per i bambini nel posto dello ski adesso si vedono questi nastri trasportatori sono un po' lontani da dove ci sia però ve lo racconto e io questi li ho visti ed è semplice l'assemblaggio di questi nastri trasportatori perché questo brevetto danese sembra quasi di mettere insieme dell'ego ve la dico brutale che non è la danimarca evoca il ego ma è così e hanno avuto hanno diverse aziende un paio in giro per l'italia che montano questi nastri trasportatori sul brevetto della casa madre in maniera del tutto casuale si sono incontrati una cooperativa di inserimento lavorativo e questi ragionando appunto per le scoperture e un paio sono andati a lavorare in questa azienda dalla relazione è nato il fatto che adesso questa azienda esternalizza il famoso discorso Biagi che in Emilia Romagna si chiama articolo 22 perché la legge regionale è così è 14 mi sembra della nazionale commesse importanti a questa cooperativa sociale di montaggio per commesse importanti vuol dire che è stata brava la cooperativa a comprendere che non solo il montaggio ma per offrirsi a questa impresa aveva un bisogno anche di logistica quindi un capannone adeguato dove questi rotoli tir che vengono da Danimarca scaricano la componentistica diciamo 20-20-40 metri lineari per l'assemblaggio un controllo di qualità del prodotto perché se sgarri di un millimetro nel segari perni il nastro non funziona e da lì è nata un tipo di relazione anche diretta che avrà sviluppi futuri a proposito della capacità lavorativa dei soggetti svantaggiati l'azienda multinazionale ha portato altri loro concessionari di brevetto francesi spagnoli a vedere questa cosa qui perché dicono che la celerità la rapidità e la precisione che fa questa impresa sociale dagli altri partner o concessionari che hanno in giro per l'Europa non l'avevano ultimo questi inserimenti lavorativi questa è un'altra cosa sulla quale quando si incontrano dei interlocutori profit è bene sottolineare migliorano il clima aziendale e ormai gli studi di clima che adesso si fanno parallelamente agli obblighi di legge per la sicurezza dimostrano che laddove ci sono inserimenti lavorativi il clima è più favorevole allora concludo scusandomi sono stato un po' sgangherato ma poi se avete chiesto una testimonianza un'esperienza ho pensato se vi è qua un approccio pieno di numeri di dati di statistiche ho detto no forse è meglio una conversazione perché poi c'era anche l'economista di professione che ha detto quello che doveva dire non posso non ricordare uno dei primissimi esempi di inserimento lavorativo perché ricordiamoci il DNA ma stiamo attenti che fu quello del professor Montobbio con i rudi camalli di Genova i camalli a Genova sono gli scaricatori di porto oggi sono tutti ecuadoregni penso che Genova sia la seconda terza città dell'Equador come numero di abitanti allora questi scaricatori di porto con il loro sindacato guardate che adesso cominciamo a mandare da voi un qualche operaio che ha qualche problemino perché sono pazienti seguiti dal centro di igiene mentale magari non affaticate lì troppo ma aveva insistito molto sulla relazione sull'accoglienza sulla solidarietà quindi parto gli inserimenti lavorativi e questi verso le 11 del mattino cominciavano ad avere qualche problema poi alla fine è bastato un incontro con i camalli perché il loro modo che avevano di esprimere solidarietà era andiamo a berci un bianchetto allora col paziente psichiatrico che già prendeva il farmaco fai un calice di vino fanno un secondo fanno un terzo verso le 11 erano piuttosto sul barcollante però per dire alle origini c'erano questa attenzione sul tipo di lavoro che fosse praticabile anche sulla modalità di lavoro sul gruppo di lavoro accogliente e questi ci sono ancora oggi gli strumenti in più che abbiamo sono gli strumenti di conoscenza lo strumento agenzia per il lavoro credo che possa aiutare in termini anche poi di legami e relazioni con le altre con i centri per l'impiego fra l'altro siamo in Italia ogni regione ha la sua legislazione di politica attiva del lavoro e quando parli con qualcuno di Bari devi pensare che non è come tu stessi parlando col Toscano forse anche troppo comunque al di là di questo credo che l'idea che avemmo per dare un ulteriore elemento alle cooperative sociali di tipo B di avere sviluppo con l'agenzia stia andando e rispondendo alle attese che ci eravamo date grazie grazie al dottor Mauro Ponzi prima del break passo la parola al dottore Cardinale coordinatore dell'ambito territoriale sociale che farà un brevissimo intervento sulla giornata di oggi grazie grazie allora io oltre a fare i complimenti agli amici di Nettability direi non più soltanto nostri partner presso l'ambito territoriale e sociale di Galatina ma voglio dire all'ASP di Galatina la consideriamo una di noi dopo la modifica della legge 19 le ASP e quelle IPAB che hanno completato il percorso e sono diventate ASP avevano la titolarità per diventare parte del coordinamento istituzionale quindi così abbiamo fatto abbiamo fatto a Galatina l'IPAB ex IPAB oggi ASP per nostro conto gestisce una serie di servizi una serie di servizi dal servizio sociale professionale al segretariato sociale professionale fino al servizio immigrazione e mano a mano con loro abbiamo allargato questo tipo di rapporto e quindi oggi che Nettability assurga gli onori delle cronache positivamente diventando la porta d'ingresso per i nostri ragazzi diversamente abili la riteniamo una cosa molto interessante ed importante quindi ancora grazie guardate ne approfitto più che fare un intervento su quello che è l'ambito e su quello che fa l'ambito noi molti delle persone intervenute oggi lo sanno e probabilmente apprezzeranno il fatto che con queste realtà noi abbiamo un rapporto fluido vorrei tornare un attimo su ciò che aveva detto che ha detto il dottor Venturi apprezzando tutto il suo intervento direi ma mi sono soffermato in maniera particolare su quegli indicatori che lui ha tirato fuori quando parlava della regione Emilia Romagna noi abbiamo un problema noi siamo alle prese noi con la cooperazione sociale del territorio abbiamo un ottimo rapporto direi e molti dei nostri servizi sono affidati alle cooperative mi chiedevo veramente per mia scienza e nostra scienza direi gli indicatori tirati fuori dalla regione Emilia Romagna perché insomma era la prima volta che mi capitava questo come fanno il paio con ciò che dice il 163 cioè il 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 vangelo delle gare ecco come si sono regolati da questo punto di vista noi vorremmo saperlo perché poi all'interno del decreto 163 tutti ci dobbiamo stare quando andiamo a fare delle gare comprese quelle per per l'affidamento dell'assistenza domiciliare integrata che era uno degli obiettivi che si poneva diciamo il nuovo modello di welfare di quei territori che lei ci ha fatto conoscere oggi ecco questa domanda le vorrei fare per capire come fanno il paio gli indicatori tirati fuori dalla regione Emilia Romagna per carità giustissimi anzi probabilmente che in qualche maniera arricchiscono chi va a fare una nuda gara e si attiene a ciò che una legge quadro in qualche maniera stabilisce grazie allora sugli indicatori quelli che vi ho fatto vedere sono una ricerca fatta dalla regione Emilia Romagna che abbiamo svolto noi e che aveva l'obiettivo non tanto perché tutto il tema poi dei sociali oggi in particolare con le cooperative si gioca sul tema dei clausole sociali o di inserire alcuni elementi quindi stiamo dentro la normativa ovviamente anche se le clausole sociali si possono comporre in vario modo nel senso tutto il tema dell'outcome cioè risultato quindi non solo cosa fai ma che tipo di beneficio generi è fondamentale però al di là di questo quelle quattro dimensioni erano particolarmente sono state utili soprattutto per l'erogazione di nuovi finanziamenti quindi al di là delle gare quando tu normalmente eroghi e finanzi tieni solo conto di elementi di efficienza oppure vai a recuperare altro altro che cos'è quindi se le policy se la pubblica amministrazione cominciasse rispetto alle proprie disponibilità anche a stimolare un modo nuovo di erogare che si basasse su un criterio diverso di valutare la qualità che ripeto la qualità oggi è sempre di più outcome cioè impatto piuttosto che output cioè produzione di servizi e questo modo qui è in qualche modo un modo che è anche se vuoi più rispettoso dei soggetti l'altro elemento che è economico se volete su questo posso inviarvi del materiale è proprio quello su dimensioni economiche cioè per esempio anche favorire ne parlavo prima alcuni soggetti oltre a produrre un valore in termini di socialità inclusione sociale riduzione dei costi in termini di genera proprio un risparmio per la pubblica amministrazione quindi esiste proprio anche un sistema per rendicontare alle pubbliche amministrazioni di un territorio quanto a fronte di un affidamento fatto a cooperativi di inserimento lavorativo l'amministrazione risparmia oltre a produrre un valore sociale ok quindi quelle quattro dimensioni che poi sono declinate in indicatori sono utili a ristrutturare la visione con cui si concedono i finanziamenti e a promuovere un modo diverso di finanziare molto basato sull'impatto e meno sulla performance e sull'efficienza questo non vuol dire che non c'è efficienza ma vuol dire che non è l'unico indicatore l'altro elemento sulla cooperazione il tema è cominciare a recuperare elementi anche quantitativi oggettivi circa si parlava prima delle carceri se uno va a vedere il tasso di recidiva l'abbassamento l'abbattimento del tasso di recidiva che genera il lavoro svolto dalle cooperative di inserimento lavorativo nelle carceri si va a prendere un indicatore pazzesco cioè quell'indicatore lì abbassa i costi sociali in maniera assurda perché passare da un tasso di recidiva dell'80% a un tasso di recidiva del 15% significa evitare che per almeno che le persone che escono continuano quindi costi sociali eccetera eccetera quindi è un esempio di indicatore su queste cose qui in Inghilterra hanno inventato addirittura un modo di finanziamento si chiamano social impact bonds ed è un modo che la pubblica amministrazione ha individuato per finanziare le carceri facendole finanziare dai fondi privati i fondi privati finanziano e li danno in gestione a non profit la remunerazione dell'investimento è proporzionale all'abbassamento del tasso di recidiva che hanno quindi è un nuovo modo di correlare il finanziamento e il rendimento anche privato a degli indicatori che non sono più solo economici questo era il tema ma sono sempre di più indicatori sociali se ne può prendere uno mezzo un altro il tema qual è? il tema è che bisogna assumere una visione più olistica più ampia della produzione di valore perché inseguendo solo la dimensione dell'efficienza rischiamo di spiazzare il sociale creando anche la pubblica amministrazione maggiori costi per finire invito l'assessore Andrea Coccio l'assessore delle politiche giovanili del Comune di Galatina a fare un saluto e un intervento grazie buongiorno a tutti sono Andrea Coccio l'assessore delle politiche giovanili di questo Comune io faccio un brevissimo intervento perché mi riallaccio subito al Dottor Ponzi tra l'altro qui sono a parte per fare un saluto perché credo che e mi auguro che questo incredibile progetto io lo ritengo incredibile perché avere un luogo dove le persone diversamente abili possono confrontarsi e avere tutti i suggerimenti e le indicazioni possibili per collocarsi a livello lavorativo è un esperimento quindi un progetto veramente notevole che va ben oltre quello che si può vedere in questa sala come presenza di pubblico io mi auguro che possa essere potenziato ri e aggiornato come progetto e rifinanziato perché può avere un impatto sociale molto forte rispetto a quello che dice quindi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per arrivare anche a questa giornata e che continuano a lavorare in questo progetto mentre per quanto riguarda il Dottor Ponzi posso dire questo racconto una mia esperienza diretta perché sono presidente nazionale di un'associazione di malati che grava come impatto sociale diciamo sulla collettività in funzione del fatto in riferimento al fatto che i farmaci che queste persone assumono hanno un impatto diciamo sulla spesa pubblica notevole e le recidive ci sono quando le persone anche e soprattutto quando le persone non riescono a integrarsi nel mondo del lavoro a causa della loro malattia quindi rispetto a quello che diceva il relatore che mi ha preceduto posso dire sicuramente che un'accoglienza di questi soggetti che apparentemente sono sani integralmente può avere effetti in relazione ai costi indiretti sulla sanità molto importanti quindi non faccio riferimento a persone diversamente abili mentalmente ma fisicamente con altri problemi funzionali diciamo sull'intestino in questo caso quindi giornalmente ascolto persone che con questi problemi si si creano anche problemi molto psicologici e non riescono a causa dei loro problemi funzionali che sono anche momentanei perché ci sono momenti di recidiva e momenti di riacutizzazione e momenti di sospensione della malattia generano effetti e costi sociali importanti perché nel mondo del lavoro hanno le porte sbarrate o quant'altro quindi hanno bisogno di confrontarsi con chi li possa consigliare all'approccio migliore nel mondo del lavoro quindi una struttura di questo tipo può servire anche a questo integrare le persone che hanno dei problemi anche funzionali che possono tranquillamente lavorare permette di abbassare i costi indiretti sulla spesa sanitaria grazie per aver reso questa giornata piacevole e anche per gli esperti di settore importante solo questo buona continuazione sì brevemente poi chiudiamo noi abbiamo avuto oltre al progetto inettabiliti altri progetti che chiudevano dopo abbiamo ricevuto il finanziamento i progetti chiudevano dopo un anno e le persone si aspettavano che dopo l'anno finiti i soldi chiuso lo sportello chiuso la festa tutti a casa in realtà il nostro impegno è stato quello di e così abbiamo fatto i progetti già conclusi come progetto noi abbiamo proseguito le attività finanziandoli con fondi nostri quindi il netability non finirà nel momento in cui finisce il finanziamento iniziale ma l'obiettivo il finanziamento è la partenza l'obiettivo deve essere quello di far proseguire anche se con le risorse che lo sportello deve riuscire ad avere ecco questo è il nostro discorso il nostro obiettivo non chiudere d'accordo? grazie se qualcuno vuole fare qualche intervento si veniamo al tavolo del relatore chiedo scusa ma veramente c'è chi mi ha preceduto ha ringraziato io non mi voglio ripetere ringrazio tutti ringrazio soprattutto l'ASP la regione che ha finanziato questo progetto e noi come territorio come comune capofila dell'ambito come Galatina siamo veramente felici e grati per questa opportunità certo quando parlava il dottor Ponzi di economia sociale dentro di me dicevo sono contenta perché è musica per le mie orecchie cioè io vorrei innanzitutto dire e dire a tutti noi che è stato dato e quello che noi intendiamo concretamente perseguire cioè mettere insieme questa cioè anche nel concetto di cooperativa sociale quello che l'impresa con quello che invece il senso sociale del fare attività d'impresa è qualche cosa che ci trova perfettamente concordi certo quando si affrontano progetti come Nettability ho seguito molta attenzione tutta l'equip sento che la voce va e viene ma ho seguito un po' tutta l'equip che peraltro essendo costituita da una varietà di professionalità qualificate ha consentito di fare un lavoro importante e appunto qualificato è chiaro che nell'analizzare nell'incontrare la persona che chiedeva di poter ripensare al proprio percorso di vita all'interno del quale la diversabilità era un elemento che connotava e che caratterizzava la stessa e io ho visto che le centinaia di colloqui e di incontri che erano volti anche a riaccompagnare verso una nuova formazione gli stessi soggetti ha trovato una grossa difficoltà nell'inserimento reale ed oggettivo nel mondo del lavoro quindi io vorrei veramente che oggi si guardasse in faccia la realtà e però ci si desse anche degli obiettivi e delle speranze delle possibilità condivise per il futuro allora per quel che riguarda l'inserimento in aziende private spesso l'azienda ahimè è disposta a rimanere nello status di azienda che non adempie a ciò che la legge prevede e non apre le proprie porte alla persona che in qualche modo andrebbe supportata nell'inserimento ecco ma oggi noi stiamo parlando di economia sociale e quindi di cooperazione allora io ai relatori e pongo e a noi stessi pongo come obiettivo è vero che vi sono una serie di cooperative di tipo A oggi è stata anche richiamata la 381 del 91 a quella legge nazionale seguita dalla legge regionale la 21 del 93 per quel che riguarda la regione Puglia quindi ciascuna regione si è attrezzata e si è dotata della legge che in qualche modo rendesse poi completasse non fosse altro per istruzione degli albi regionali c'è una serie di azioni che attenevano alle regioni e allora le cooperative in quella legge 381 le imprese vengono in qualche modo elencate A B c'è quelle miste c'è il consorzio insomma la tipologia e quindi mi piacerebbe anche che il dottor Ponzi declinasse quella pluralità di imprese alle quali ha fatto riferimento perché vorrei capire se immagina altre forme di impresa con personalità diverse ma ritorniamo alla cooperazione ecco noi come ambito diamo con i soldi pubblici perché mi va bene anche la distinzione che è stata fatta successivamente cioè Venturi e Ponzi scusate ho invertito i cognomi era Paolo Venturi che parlava di questa pluralità di imprese mentre Ponzi ragionava su come una cooperativa dovendo costituirsi deve avere una sua un suo progetto finanziario una sua autonomia e se possibile deve essere totalmente indipendente dal capitale diciamo pubblico perché per poter vivere è bene che sia così e mi va bene allora tornando invece alla cooperazione sociale in genere e a tutte quelle cooperative sociali con le quali gli ambiti entrano in relazione perché facendo i loro bandi ovviamente affidano i vari servizi che bene o male hanno secondo le linee guida e gli obiettivi di servizio della regione Puglia minori, anziani e disabili quindi possiamo immaginare che eterogeneità di servizi e quanti interlocutori soggetti sociali anche il singolo ambito di Galatina che in fin dei conti sono sei comuni con una popolazione di circa 62.000 abitanti hanno come servizi da rendere ecco le cooperative A per esempio è possibile che non prevedano o prevedono hanno l'inserimento di una percentuale magari minoritaria perché per le cooperative B la norma parla del 30% così come quando minimo così come quando si parlava si diceva la soglia che in qualche modo individua la persona quindi la norma dice il 45% minimo di disabilità e quindi anche questo è un discorso su cui si può tornare e riflettere insieme però ecco io mi chiedo se le cooperative A con le quali noi abbiamo portiamo avanti i nostri servizi per esempio prevedano o debbano prevedere quindi se noi possiamo spingere perché ciò avvenga poi è chiaro la cooperativa B c'era il distinguo che veniva fatto un conto sono i soci con quella percentuale di disabilità un conto sono i consigli di amministrazione quindi riuscire a portare avanti la battaglia di un protagonismo importante quindi non soltanto come soci che lavorano nella ma come gestione della cooperativa B ma andando al futuro ecco quello che io vorrei una idea che come realtà galatinesse come amministrazione galatinese stiamo andando ad immaginare vorrei e il sindaco penso in qualche modo questa mattina vi abbia già fatto cenno ecco vorrei che poi noi ci intendessimo ci siamo convinti che qualunque iniziativa oggi debba avere come obiettivo prioritario la autosostenibilità la sostenibilità l'autonomia ecco io però ritengo che ci possa essere da parte dell'ente pubblico un ruolo di conferimento nel capitale della cooperativa che si va a formare per esempio di beni immobili di patrimonio comune penso ad una cooperativa di tipo B che possa operare nel settore del turismo del turismo sociale ma anche del sostegno alle persone in difficoltà che vengono ad incontrare i servizi alla persona i servizi sociali per cui noi per esempio in alcune strutture come ambito di proprietà del comune non abbiamo alcuni interesse ad autorizzare poniamo un alloggio sociale per adulti ovviamente chi opera nella legione Puglia con regolamento 4 comprende bene di che cosa sto parlando perché se un ambito pur avendo persone adulte con un disagio abitativo ed economico e quindi che necessitano l'accoglimento temporaneo in strutture presso cui trovare almeno risposte al problema fondamentale che si dica il vitto e l'alloggio per esempio se noi autorizziamo una struttura di questo genere incappiamo in quelle schede del regolamento 4 che ovviamente in maniera ottimale tracciano i parametri strutturali ma anche i profili professionali di che è chiamato ad operare il che comporta un costo tariffario giornaliero di circa 30 euro e noi non possiamo sostenere questi oneri ecco perché si immaginava un luogo una cooperativa sociale nella quale conferire patrimonio immobiliare incomodato incomodato ovviamente conferire questo patrimonio sono ovviamente stabili di interesse storico e di pregio all'interno di questa eventuale cooperativa e lì poi ecco vedere come riservare ai servizi sociali del territorio alcuni servizi che sono la lettura costante degli stessi bisogni che riguardano l'intero territorio l'intera popolazione e quindi veramente riuscire a comprendere quello che il progetto Nettability sta facendo culturalmente comprendere che io mi auguro passi in maniera chiara e comunicativamente efficace che accogliere una persona con diverse abilità vuol dire comunque avere una risorsa umana enorme e poi ovviamente quella ricaduta positiva nel sistema delle relazioni che all'interno di qualunque ambiente lavorativo determinati inserimenti producono quindi ecco io su questo vorrei da una parte avere una qualche parola dei nostri relatori perché appunto ecco il pubblico vuole esserci nel rispetto di ciò che deve rimanere iniziativa privata autonoma di una cooperativa sociale e soprattutto culturalmente noi vogliamo diciamo accogliere questa sfida e giocarcela fino in fondo è chiaro che l'altro elemento che in questo mio intervento trascuravo è proprio la presenza sul territorio dell'ambito di Galatina di una ASP che è altro rispetto appunto alle cooperative sociali o ai consorsi di cooperative che quando noi facciamo i bandi concorrono e questo è un altro strumento importante lo diceva il coordinatore il dottor ordinale prima e diventano nella logica della regione Puglia quasi il braccio operativo degli ambiti le ASP e questo è un ruolo importante anzi importantissimo perché poi i famosi bandi le grosse difficoltà il formulare un bando accogliere la richiesta ad essere e a partecipare e si incontrano soggetti interlocutori anche se cooperative sociali che magari di tipo A con le quali magari ecco per tornare all'idea sulla disabilità magari non hanno la dovuta di un'azione oppure non lo so perché poi siamo tutti uomini che costituiamo le singole risposte e ci sono risposte più o meno positive per i limiti o le potenzialità di ciascuno grazie di per sé le cooperative A non hanno l'obbligo per tutta una serie di cose però lo potete fare voi come amministratori ascolti in qualsiasi gara d'appalto di qualsiasi genere merceologico voi potete mettere una clausola sociale per il quale il 5% dei lavori deve essere affidato a una cooperativa sociale per l'inserimento lavorativo un consiglio perché siccome ho visto delle cose spudorate laddove c'erano clausole sociali aggiungete di inserimenti lavorativi di persone residenti nel territorio di Galatina se no vi mettono in cordata una cooperativa sociale del Triveneto che è là che è là assolvono l'obbligo degli inserimenti lavorativi ok quindi questa c'è una prudenza un po' da scaffata quindi la clausola sociale potete mettere in qualsiasi genere merceologico di qualsiasi gara d'appalto laddove c'è un global service per la manutenzione delle scuole c'è anche la fornitura di calori sono le pulizie perché no fissate la percentuale di questo e poi sulle forme societarie magari parla parla Paolo ma io mi sto innamorando della SPA impresa sociale nel senso che mi consente ci consente da un lato magari a tenere saldamente salda scusate il visticcio la proprietà perché funzionano come la SPA o attraverso un patto di sindacato o una maggioranza delle cooperative sociali che fanno parte di quel progetto imprenditoriale dall'altra però possa avere in SPA imprenditori anche profito altri soggetti non necessariamente di cooperazione che partecipano alla SPA impresa sociale quelle che tecnicamente loro chiamano libri di societari ma penso che abbiano un gran futuro davanti sì velocissimamente su questo punto il tema dell'impresa sociale si può dilatare al di fuori della cooperazione ma la cosa bella è che non è appena che si dilata al di fuori della cooperazione è la cooperazione stessa che si fa promotrice attraverso forme giuridiche diverse di nuovi soggetti l'SPA di cui parlava prima Mauro è l'SPA che hanno costituito a Reggio Emilia per far nascere un poliambulatorio che eroga servizi di sanità prestazioni di sanità leggera i cui soci sono le cooperative perché lo fanno lo fanno perché oggi ci sono alcuni elementi fondamentali nel promuovere impresa uno di questo è internalizzare una pluralità di soggetti diversi che apportano competenze anche capitali ora però sono S.P.A. come le altre? no questa è un'SPA che ha la qualifica di impresa sociale la legge 155 del 2006 che non ha funzionato a punto di vista ancora dei numeri però ha fatto una rivoluzione culturale cosa ci dice? ci dice che un'associazione di volontariato o un S.P.A. prendiamo i due estremi possono assumere la qualifica di impresa sociale a particolari condizioni la prima che oltre il 70% del loro attività è data da attività produttiva scambi di beni e servizi sono soggetti market di mercato cioè non è che il 50% del loro bilancio si forma con contributi no non puoi essere impresa sociale perché non sei appunto impresa altri elementi sono che queste appunto società non redistribuiscono l'utile o comunque lo redistribuiscono secondo forma assolutamente calmiaraggia diciamo che ai soci finanziatori diciamo che quindi sono soggetti dal punto di vista di questo aspetto simile alle cooperative cioè di fatto sono soggetti inclusivi che costituiscono e costruiscono un patrimonio che poi è indivisibile e indisponibile se non rispetto alla finalità per cui nasce cioè non è che un giorno uno vende la quota e massimizza la sua attività o redistribuisce gli utili di questo poliambulatorio è sempre un'impresa di comunità quindi è produttiva oltre il 70% è un'impresa che appunto non redistribuisce utili quindi il patrimonio è come si dice asset lock loccato bloccato disponibile solo per quel tipo di attività l'altro elemento di queste attività è che devono operare nei settori che la legge descrive sono 11 e sono anche settori che vanno oltre i tipici della cooperazione sociale tipo A perché arrivano all'ambiente c'è tutto il tema della formazione eccetera eccetera si dice che siano troppo pochi però comunque sono 11 sono tanti la ricerca la ricerca scientifica quindi questo secondo me è la prospettiva perché quindi quando parlo di pluralismo non mi fermerei proprio perché siamo in un altro mondo dalla dicitura SPA o no perché per esempio anche l'SPA può essere un SPA diversa se ha la qualifica di impresa sociale la distinzione qual è? sostanziale e fa soggetti inclusivi e estrattivi cioè fra soggetti che creano valore lo legano al territorio anche con modelli di impresa che sono efficienti efficaci anche perché c'è tutto il tema della finanza la finanza in una cooperativa facciamo l'esempio del patrimonio che volete dare lo date incomodato perché se lo date al patrimonio un giorno dopo va ai fondi mutualistici ok allora cosa si fa in questi casi normalmente se si vuole fare un progetto evoluto si fa una fondazione la si patrimonializza con l'asset e la governance è costruita col pubblico e con la cooperazione sociale a guida dell'impresa sociale e questa è una fondazione però è un'impresa sociale ci stiamo facendo il primo studio in Italia come Icon insieme a CGM e a breve lo presenteremo comunque quindi il pluralismo è più ampio buongiorno a tutti io vengo da Trepuzzi e mi piacerebbe lanciare una sfida visto che si sta parlando di persone diversamente abili o con problematiche fisiche e partire da qua perché nella zona magari è uno di quei servizi che sta mettendo cerca di mettere in rete diversamente abili però prendendolo da un punto di vista diverso da come si fa solitamente come per dire non aspettate che qualcuno vi da ma iniziate a rimborcarvi le maniche io partirei da questo presupposto per non aspettarmi che qualche cooperativa sociale mi dia la possibilità di fare parte di quel 30% ma che magari diversamente abili con delle esperienze lavorativi con delle professionalità dessero la possibilità a un 30% di abili di inserirsi in una cooperativa produttiva che faccia in modo di valorizzare quello che è il territorio le competenze e finalmente scrollarci ridosso che qualcuno deve dare ai disabili qualcosa potremmo riuscire mettendo quelle che sono le competenze quelle che sono anche la parte politica perché di politica si tratta cosa che fino adesso magari c'era uno sguardo un po' più assistenzialistico e pilotarlo nella giusta maniera quindi da qua allangerei questa sfida cioè lavorare per diventare amministratori e non più cercare oddio se ci sono cooperative benvengano che possono accogliere il 30% però partire da qua per dire mettiamoci voi avete anche un database che si può consultare possiamo vedere chi veramente vuole rimboccarsi le maniche lavorare mettiamo iniziamo a lavorare per verificare se è possibile tirarla fuori e con l'aiuto di tutte le vostre professionalità e esperienze lanciarla magari potrebbe essere una cooperativa pilota per il territorio non solo grazie grazie se non c'è nessun altro che vuole intervenire io chiuderei i lavori di questa mattinata per riaprirli poi alle diciamo alle 14.30 a questo punto con l'intervento di Roberto Covola va bene grazie a tutti grazie a tutti